un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo dall'orto del convento dei frati minori cappuccini oggi qui per leggervi lo stralcio di una lettera tratta dall'epistolario numero uno che padre pio scrive a padre agostino cosa gli scrive con grande sforzo vi scrivo la presente stante il mio fisico assai debole a cagione di un'influenza che mi ha torturato in diversi giorni il motivo che mi spinge a scrivervi è perché gesù lo vuole sia mai sempre benedetto il celeste padre che così vuol trattarmi piaccia sempre gesù che il tutto mi sia guadagno e utile dello spirito mio dio scrive ancora padre pio questi spiriti maligni padre mio fanno tutti gli sforzi per perdermi vogliono vincermi per forza sembra che approfittino proprio della mia debolezza fisica per maggiormente sfogare contro di me il loro livore in certi momenti mi vengo proprio sull'orlo del precipizio sembrami allora che la pugna per arridere a quei birbaccioni mi sento proprio tutto tutto scuotermi un'agonia mortale attraversa il mio povero spirito riversandomi si pure sul povero corpo e tutte le membra me le sento rattrappirsi la vita allora davanti a me la vego come se si arrestasse la mia vita è sospesa scrive padre pio continuerà il pietoso signore ad usarmi misericordia donandomi quella forza e quella costanza che fino al presente mi ha data per poter sempre vincere e debellare questo nostro nemico così forte e si potente vi confesso padre mio che in tutti questi combattimenti nonostante che io mi vedo si deboli da sembrarmi da un momento all'altro di soccombere pure a seconda dell'aspettazione speranza mia tengo certo che in una cosa sarò confuso ma che ogni sicurezza come sempre così come al presente gesù cristo sarà magnificato nel mio spirito e nel mio corpo senza portarne scottatura alcuna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti